Vi volevo dire due parole su come la fisica aiuta a modellare la distribuzione dei rendimenti di serie storiche finanziarie. È una cosa interessante perché la distribuzione dei rendimenti ci consente di capire che tipo di rischio stiamo assumendo per esempio all'interno di una serie storica finanziaria. Oppure ci consente di capire se un certo movimento di mercato è stato eccessivo oppure meno rispetto alla media. Chi utilizza la distribuzione normale come il 90% dei casi in finanza fa un errore abbastanza grosso nella stima della frequenza degli eventi, soprattutto quelli più estremi e quelli più rari e di conseguenza rischia di trovarsi spiazzato quando questi si presentano. È un po' come dire rischia di vedere dei cigni neri in mezzo a tanti cigni bianchi, rimane senza parole perché non se lo aspettavano. Lo vedete qui rappresentato nella curva in grigio dove troviamo la distribuzione dei rendimenti empirica dell'indice S&P 500 e ad essa ho sovrapposto la migliore distribuzione normale che li posso descrivere in viola. Come vedete la distribuzione normale in viola non riesce a descrivere bene la distribuzione empirica, cioè quella reale dell'indice S&P 500, infatti ne fa fatica. Direi che in nessuna parte della curva è aderente. Allora noi dobbiamo utilizzare quello che vi dicevo prima, cioè il pensiero scientifico, l'approccio deduttivo per arrivare a delle ipotesi che ci consentono di descrivere correttamente almeno la serie storica passata, ma anche di avere una buona probabilità di riuscire poi a dire qualche cosa per il futuro, che fosse la cosa più interessante. Per farlo ipotizziamo che le serie storiche finanziarie siano invarianti per cambio di scala temporale. Cosa vuol dire invarianti per cambio di scala temporale? Vuol dire che non so distinguere se una serie storica è giornaliera oppure se è settimanale. Questa ipotesi che è in realtà molto semplice e difficile da confluttare, d'accordo? Ci porta, grazie al teorema di Bollevi che è stato formulato nel 906, direttamente a una classe di distribuzioni che si chiama classe di distribuzioni paretone di stati. Senza entrare troppo in questi grossi nomi, vi faccio vedere come queste distribuzioni che non sono nate dall'evidenza empirica, cioè non è che io ho provato 500 distribuzioni fino a trovare quella giusta, ma nascono da una ipotesi teorica. Ecco, ora vi faccio vedere come queste distribuzioni che nascono da una ipotesi teorica spiegano i dati sperimentali, cioè i rendimenti dell'indice SP500 e lo potete vedere qui rappresentato in blu. Come si può vedere, le distribuzioni in paretone di stati riescono a spiegare bene l'andamento dei rendimenti dell'SMP500, quello che c'è stato nel passato e basandosi su delle ipotesi forti probabilmente ci aiuteranno anche a capire come l'SMP500 potrà muoversi in futuro tenendo conto non solo degli eventi normali, ma anche dei cosiddetti cigni neri, cioè di quegli eventi che si trovano in questa zona della curva. C'è qualche domanda su questo particolare tema su distribuzioni di paretone di stati? Ecco, quindi è un modo che ha delle origini teoriche forti per cercare di capire come è strutturata la distribuzione dei rendimenti. Noi in RedEx utilizziamo questa distribuzione per la misura del rischio, per la ottimizzazione di portafogli, cioè per la formulazione di portafogli che risultino resistenti al rischio di shock. E perché saranno resistenti al rischio di shock? Chiaramente perché il modello che sta alla base della distribuzione di questi portafogli prevede già dentro la sua pancia, diciamo così, la possibilità che vi sono dei cosiddetti eventi rai dei cigni neri.